Quando ho assunto la direzione e l'incarico di questore di Terni sapevo che uno dei problemi più importanti erano i furti in abitazione. Abbiamo affrontato questo tema su una duplice direttiva, da una parte l'attività di prevenzione con le volanti dispiegate sul territorio, dall'altra una ficcante e accurata attività investigativa che oggi fa stare più sereni i cittadini di Terni perché riteniamo ragionevolmente di aver disarticolato una vera e propria organizzazione dedita ai furti nelle abitazioni della città di Terni e pensiamo di poter attribuire almeno un paio di centinaia, almeno, quindi un numero estremamente importante.